John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video benvenuti sono qui con Federico Marconi che lo stai imparando a conoscere Piano piano è difficile in mezzo alle palle sta però alla fine insomma lo conosciamo E niente Allora parliamo di una cosa oggi Oggi voglio parlare anche se comunque è un fatto che è passato da un po' di tempo però C'è un argomento di discussione Neymar è andato al Paris Saint Germain e tutti ne parlano come traditore Al di là di tutto no Cioè io sinceramente non vedo sto gran traditore Ti rispondo subito posso? Allora vai Allora lui non sarebbe stato traditore perché comunque allora ipotizziamo Neymar Determinati soldi non gli dici di no Ok Però lui diventa traditore se arriva al Barcellona e poi lo fanno tutti ma non perché lo fanno tutti vuol dire che è una cosa giusta no Quindi lui arriva al Barcellona sono qui e la mia squadra è la mia squadra del cuore La squadra che ho sempre di fatto voglio diventare una bandiera del Barcellona Ricevi tutti quei soldi giustamente accetti arrivi al Paris Saint Germain per la conferenza stampa dici Non sono qui per i soldi scelta di cuore Sei ridicolo Allora sì Edita non te l'ha chiesto nessuno No no allora su questo sono d'accordo Sei ridicolo È sempre lo stesso gioco che si fa che quando arrivi in una nuova squadra ti riacqua al tuo mulino insomma per cercare di alimentarlo Però il problema è un altro il problema è questo che comunque si sta facendo passare Neymar come traditore assoluto per aver scelto il Paris Saint Germain Quando ragazzi in realtà si parte un giocatore brasiliano venuto dal Brasile che non c'entra niente né con la Spagna né con la Francia No questo è vero Che è andato al Barcellona ha fatto una caterva di gol Poi mettiamo anche che il Barcellona insomma abbia avuto grandissima fiducia in lui per pagarlo Il grande cartellino, lo stipendio e quello non lo metto in dubbio Però anche Neymar d'altra parte insomma ha sempre onorato il Barcellona Perché comunque ha fatto un sacco di gol, un sacco di assist Se non vado errato è il trio Neymar-Messi-Suarez ad aver fatto più gol della storia del calcio Un trio in un determinato tempo Alla fine io non vedo sto grano Cioè io dico sempre no Ad esempio a me Messi Sì Alla fine sono contento se dovesse chiudere la carrella con il Barcellona Perché alla fine sarebbe una bandiera capito Essendo una bandiera, essendo una bandiera comunque alla fine Sono contento se chiude la carrella con il Barcellona Certo Però d'altra parte dico sì però tu non ti sei mai misurato con un altro Un altro tipo di clima Come ti posso dire Non ti sei mai misurato in un altro tipo di ambiente Certo Cioè è questo Io magari Neymar dovesse andare al Paris Saint-Germain E vincere scudetto, campionato, Champions League Che potrò dire guarda addirittura io forse ti posso dire Che Neymar magari a vederlo fra tre anni potrò dire che è stato meglio di Messi Perché se da una parte Messi è il migliore del mondo Il più forte, fa cose col pallone che nessuno ha mai visto Ho capito il ragionamento che stai facendo Giustamente Messi è stato sempre all'interno di quell'ambiente Sempre con altri dieci mostri accanto Sì ma poi lo vediamo che il mostro numero uno è Messi Non fraintendere Però come faccio a sapere che magari Messi al Monaco, al Paris Saint-Germain, al Borussia Dortmund Sarebbe diventato Messi come lo è diventato al Barcellona Beh lo vedi poi questo ragionamento lo fai anche quando vedi i turbe no? Al Verona in un grande club era un grandissimo giudatore Arrivato a Roma si è perso Ma io non lo so tu che ne pensi Cioè tu dimmi scusa alla fine No io sono contento che riesca È bello che non ha sentito quello che ho detto Sì no 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 ho capito Non ho capito però No tu ho capito Che hai detto è turba al Verona Eh Non ha sentito la serata No pensavo dicessi dell'ambiente L'hanno capita loro e la rivedrai quando monti il video Non te la dico Andiamo Giuro che ti taglio Comunque Comunque a parte questo Grazie Grazie Ringraziamo voce degli Essere Music per la partecipazione in diretta nel video Allora In diretta nel senso che non è in diretta in live È in diretta perché non è diretta però è Cioè non c'è ma c'è Capito? Senti io già chiuderò il video perché tu insomma hai detto troppe stronzate Però abbiamo detto il nostro pensiero su Neymar L'importante era questo Loro sono felici Diteci cosa ne pensate qui sotto nei commenti Passate sul canale di Federico Marconi se ancora non l'avete fatto È un'importante Guardate bene se potete iscrivere Non è una persona molto sanatemente Intanto gli parte Però potrebbe essere utile Io vi ringrazio come sempre per la visione Vi lascio in descrizione il link del maestro 2.0 Che apprendi di pronosti C'è il migliore ragazzi Calcio in via è veramente il più bravo Buoncela All'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo Ciao raga E non lo dici è video Video È un prossimo porno Ciao a tutti